Qui ci sono tre soggetti che hanno fatto il proprio dovere. La Corte Costituzionale a richiamare le attenzioni, la legge dello Stato a consentire un percorso di rientro ventennalizzato. La Regione Abruzzo ha spiegato che non è possibile in pochi anni superare un debito accumulato in tanti anni. Questi tre livelli istituzionali hanno messo in campo un procedimento con l'unico obiettivo di salvaguardare la tutela dei diritti fondamentali, per esempio quello dei trasporti attraverso l'acquisto degli autobus, delle borse di studio o coperture importanti riguardanti la sanità. A questo punto che si fa? Si ritorna alla copertura del debito ereditato dal passato e farlo in pochi anni cancellando i diritti fondamentali? O si riapre un ragionamento tiro alla fune in diritto col governo per dare luogo ad una nuova legge dello Stato come abbiamo fatto noi con la legge 205 del 2017 che ha permesso la ventennalizzazione del debito. Un debito di 700 milioni di euro ereditato non è possibile ristorarlo con tre o quattro anni. C'è bisogno di un numero di anni congruo che lasci agibilità finanziaria per coprire la garanzia dei diritti fondamentali. Questo problema che per adesso è della regione Abruzzo ma a breve sarà dei grandi comuni italiani e di altre regioni italiane che hanno usato la stessa legge caducata dalla Corte Costituzionale per ripianare i debiti del loro passato. Nel nostro caso ancora più veritiera perché noi ci siamo trovati a fare i conti nei documenti contabili con debiti nati dieci anni prima. Nell'arco di 60 mesi abbiamo restituito dei 700 milioni, 300 milioni di debiti attraverso sacrifici e politiche di razionalizzazione. Per il debito restante ci vorrà una nuova legge dello Stato, una nuova procedura che però non accetti di comprimere a pochi anni il pagamento di 400 milioni. È possibile fare questo? Assolutamente sì.